Buongiorno, sono Eugenio Saltarelli del sito www.investimentimincenti.it, il sito che parla di opzioni, analisi intermarket, analisi statistica e ciclica. E oggi volevo partire, prendere come spunto l'intervento che insieme a Matteo Maggioni e Alexander Autina abbiamo fatto a Rimini, in particolare io ho tenuto la parte sui frattali, qui vedete il titolo del nostro intervento a Rimini che ha avuto un certo successo, la sala era piena con gente in piedi e volevo un attimo riprendere l'intervento che io ho fatto, perché per mancanza di tempo poi molte cose non le ho dette. Come sapete parlando di frattali, qualcosa io presento di analisi frattali nei video di teletraining, giusto come ripasso vediamo che i frattali non sono altro che delle forme, vedete qua delle forme triangolari, cioè delle piccole forme che danno composizione a forme più grandi, sempre che hanno una similarità, perché vedete che questa forma è simile a questa, a volte uguale alla forma più piccola. Nel trading, cioè per fare analisi e trading in borsa, io non faccio altro che cercare delle similarità, comunque poi farò magari qualche video che riprende questi punti che ho fatto durante quel corso, durante quella presentazione. Quindi praticamente cosa si fa? Qui per esempio abbiamo il grafico del MibTel, non si fa altro, per esempio qui oggi siamo al 26, siamo al 26 di maggio, per esempio si può vedere tutta questa forma, vi vedete che ha fatto praticamente il doppio massimo, tutta questa forma che similarità ha avuto nel passato o sullo stesso MibTel o su altri mercati e lo possiamo anche vedere con diversi time frame e questa è la vera fatalità, cioè io posso confrontare questi diati a un giorno con quelli a una settimana. Giusto come prova faccio un test insieme a voi e vediamo per esempio di cercare la similarità a partire da questo importante massimo da cui poi c'è stata l'ultima discesa finale del MibTel che come vedete la data di in fondo è quello del 2 settembre 2008. Per fare questa analisi mi avvalgo di un software fatto insieme alla Monika Faustini che è un programmatore, un mio amico e i sabato e le domeniche li abbiamo passati a fare questo software. E quindi per esempio qui abbiamo detto prendiamo il dato del MibTel, quindi io ho una serie di dati, aggiornato ai dati di ieri, lo confronto sempre con i dati giornalieri, parto dalla data del 2 abbiamo detto settembre 2008 e vediamo la similarità con una correlazione, il coefficiente di correlazione è il coefficiente che va da meno 1 a 1 con valori vicino a 1 vuol dire che la correlazione è elevata, quindi cerco le correlazioni tra punto e 8 e 1 e posso proiettare nel futuro i dati, adesso poi lo vediamo, cosa vuol dire questo, diciamo voglio vedere i dati nel futuro, di solito io non faccio mai più di un terzo dei dati, ecco qui vediamo, possiamo vedere tutti questi dati, cioè in un grafico, vedete le correlazioni su tutti i maggiori di 8, poi c'è anche la pendente, l'intercetta, ma non ci interessa l'interesse del coefficiente di correlazione, ma il grafico dice sempre molto di più, andiamo a vedere cosa ci dice il grafico di questa rappresentazione, eccolo qua, qui abbiamo un dato corrotto ma non importa, allora in rosso è praticamente questa parte qua, tutta questa parte qua, in rosso, invece in nero c'è la posizione, lasciamo perdere questo punto qua, perché non è importante, questi sono i vari dati del passato, cioè quando nel passato il MIPS era fatto lo stesso, e questa nera è la media di tutti, come vedete da qui in poi non abbiamo dati adesso, invece nel passato avevamo dei dati, e quindi li proietto nel futuro, chiaramente, perché queste sono le similitudini che abbiamo avuto nel passato, poiché nel passato c'è già stato, posso anche proiettare i dati successivi del passato, che sono proiezioni future, come vedete abbiamo un andamento decrescente, ossia la similarità ci dice che in base alla similarità, cioè alle forme simili, cioè fatali, abbiamo un più probabile andamento decrescente, sempre con questo soft che mi permette di fare molti calcoli, posso per esempio fare, cercare la similarità, e questa secondo me è la parte particolarmente interessante, col Dow Jones, però con dati settimanali, magari abbasso la soglia di correlazione, metto 0,7 a 1, quindi vado sempre a cercare praticamente una forma simile a questa, da qui a qua, sul Dow Jones, ma su dati settimanali del Dow Jones, e questa è vera dinamica frattale, questa è vera dinamica frattale, quindi vediamo se trova qualcosa, come no, certo che li trova, quindi ripeto, il Dow Jones dati settimanali, prendiamo i migliori, prendiamo solo i migliori, cioè quelli con correlazione, lo prendo da 0,78 in poi, li graficchiamo, e vediamo cosa viene fuori, vedete, questo è il MibTel, questi sono i dati del Dow Jones settimanali che hanno una similarità migliore con MibTel, questa è la media, vedete che la similarità è decisamente buona, e qui cosa abbiamo? Abbiamo che come prosecuzione abbiamo una più possibile lateralità, comunque non una prosecuzione di rialzo, e queste cose le ho fatte vedere anche bene Rimini, cioè l'attuale rialzo, l'ho fatto anche con altri frattali, ha scarse probabilità in base alla forma di proseguire, molto basse, il che non vuol dire che non possa proseguire, ma solo che le probabilità su base frattale, cioè su una base statistica di forma, ha poche possibilità, giusto per andare avanti, possiamo fare un passo in avanti, posso anche fare un'analisi inversa, ossia, ossia, cosa è l'analisi inversa? Cioè considero i dati invertiti, perché per esempio tutta questa forma di ribasso può somigliare a delle forme di rialzo, può succedere, allora io inverto i dati in modo che vado a vedere se ci sono anche delle correlazioni di questo tipo, e vedete che effettivamente trovo anche sul Dow Jones, sui dati settimanali invertiti, trova delle buone similarità, prendiamo sempre i addirittura migliori che nel caso diretto, addirittura migliori, più alte, quindi prendo solo i migliori, li grafico, come sempre, e quindi questo è sempre il rosso, il Miptel, gli altri sono il Dow Jones a dati invertiti, la linea nera è la media, come vedete anche qui abbiamo una tendenza laterale discendente, quindi anche invertendo i dati del Dow Jones, cioè invertendo i rialzi con i ribassi, abbiamo sempre che questa forma ha poche possibilità di proseguire come rialzo, chiaramente qui abbiamo una piccola prosecuzione, ma poi vedete abbiamo una caduta, quindi tendenzialmente questa forma ha una maggior probabilità non di proseguire il rialzo, cioè questa forma di rialzo Miptel, che è più o meno simile sull'S&500 e sull'altra, poche possibilità di proseguire. Bene, questa è l'idea più o meno che avevo fatto vedere a Rimini, poi faremo magari una serie di presentazioni apposta per teletrading. Vi saluto da Rigenio Saltarelli www.investimentivincenti.it